come guadagnare con gli investimenti è possibile farlo non è possibile farlo si può vivere solo di investimenti si può diventare ricchi grazie agli investimenti cambiare la propria vita lo vediamo in questo video in questo periodo di bull market con i mercati che ruggiscono in tanti mi state scrivendo in particolare vedendo quelli che sono i risultati che faccio piuttosto che i video che porto che cosa do come consiglio per chi vuole guadagnare con gli investimenti in tanti mi state chiedendo mi state dicendo dei risparmi li voglio mettere lì voglio diventare ricco con gli investimenti oppure voglio cambiare la mia vita perché magari arrivo da una situazione brutta e voglio veramente prendere tutti i miei risparmi buttarmi sul mercato e dimmi cosa fare cosa non fare permettendo che non posso dare consigli finanziari e non voglio dare consigli finanziari ci sono dei piccoli punti che dobbiamo andare ad analizzare comprendere insieme qui adesso spero con questo video di andare a chiarire determinati concetti e aiutarti realmente a cambiare il tuo modo di approcciare gli investimenti partiamo del primo fattore voglio cambiare la mia vita con gli investimenti ragazzi cambiare la propria vita con gli investimenti è possibile sì sul lungo termine se si hanno i soldi per farlo non si cambia la vita con gli investimenti la si cambia cambiando noi come prima cosa il modo in cui ci approcciamo al mondo degli investimenti e come seconda cosa cambiando il nostro modo di fare a 360 gradi non è l'investimento una macchina per guadagnare l'investimento è una soluzione che va a moltiplicare ciò che già guadagniamo quindi se guadagni poco se guadagni 1000 euro al mese se guadagni 2000 euro al mese 3000 euro al mese non devi focalizzarti sul fare il tuo stipendio con gli investimenti ragazzi no gli investimenti sono una cosa a parte non non vedere quello dell'investire come un lavoro anche se richiede fatica richiede attenzione richiede tutto tutto quello che richiederebbe un lavoro vero e proprio ma non guardare quello non concepirlo così immagina gli investimenti più come una scatola una scatola in cui tu puoi metterci dentro qualcosa in questo caso dei soldi e lui questa scatola l'investimento te la può moltiplicare o te la può però anche dimezzare qui da un lato puoi ritrovarti di più dentro la scatola quando la vai a riaprire dall'altro puoi aprirla e non trovare più nulla questo è il primo concetto che deve avere chiaro in mente il lavoro tu lavori guadagni gli investimenti tu metti i soldi ci sono ancora di più sono uguali o li hai persi sono due cose diverse quindi è un tipo di guadagno totalmente diverso non pensare agli investimenti come un sistema di guadagno se vuoi veramente fare tanto cambiare la tua vita non devi cambiarla attraverso gli investimenti puoi usare gli investimenti come boost come aiuto per evitare che i tuoi soldi vengano svalutati cioè il frutto del tuo lavoro venga buttato nel cesso questo sì ma non devi affrontare gli investimenti con adesso guadagno perché investo su btc o qualsiasi altra cosa e guadagno no ragazzo non fare questo errore perché l'ho fatto in passato e ho compreso che è sbagliato perché è sbagliato perché facendo questo tipo di ragionamento tenderai a sovresporti puoi dirmi tutto quello che vuoi puoi dirmi veramente quello che ti pare con no ma io sono attento sono ligio guardo il mio portafoglio lo setto bene tutto quello vuoi ma ci metto la mano sul fuoco che ti brucerai se non tutto il capitale una parte perché dico questo perché se io parto con l'idea che devo cambiare la mia vita tramite l'investimento dovrò ben presto fare i conti con che cosa con lo scoprire che non mi basta mettere 20 euro 100 euro 1000 euro negli investimenti per diventare milionario per fare 100 mila euro per cambiare la mia vita scoprirò che devo mettere di più e quindi tenderò per forza di cose a sovrespormi sul mercato tenderò a mettere più cash più liquidi e mi ritroverò coinvolto con troppo capitale e se mi va bene faccio il botto d'accordo ma se mi va male perdo questo non è investimento ok questo si chiama scommessa vatti a giocare la schedina piuttosto il totocalcio e va bene uguale non è quello che bisogna fare non è il modo di approcciare ma proprio a livello mentale non è il modo di approcciare gli investimenti investimenti richiedono studio richiedono dedizione richiedono comprensione delle dinamiche del mercato non è che la prima meme coin che esce io butto i soldi via divento milionario vado in lamborghini no bisogna essere in grado di capire il progetto come si muove la liquidità e se mi segui qua sul canale probabilmente avrai già tanti strumenti che altri là fuori non hanno avrai un po di analisi un po di dietro le quinte che ti vado a insegnare e vado a mostrare qua appunto sul canale richiede questa roba qui richiede comunque uno sforzo e soprattutto una gestione del rischio una gestione del portafoglio bisogna essere in grado di gestire il proprio portafoglio non puoi partire con l'idea to the moon fine sbanco vado arrivo io un signor qualunque il paperino della situazione che ho la presunzione di fare le scarpe perché poi quello è a zio paperone ai big di wall street no ragazzi non funziona mi spiace devo rompere il sogno babbo natale non esiste devo dirvelo se vuoi guadagnare se vuoi cambiare la tua vita devi farlo andando a capire uno che cos'è in trend adesso quali abilità richiede il mercato e due posizionarti imparare quelle abilità lì fine devi vendere un servizio devi vendere un prodotto ma non vuol dire mi apro la partita iva o faccio no puoi anche farlo da dipendente ma converrai con me che se tu sei un normalissimo impiegato che il tuo lavoro verosimilmente può farlo chiunque allora tu otterrai soldi in proporzione a quello che il valore che tu puoi portare al tuo datore di lavoro comunque sul mercato se vai diciamo dal libro professionista se tu hai delle skill delle abilità che pochi hanno ragazzi vi pagano quindi anziché concentrarci a fare soldi con gli investimenti concentriamoci piuttosto a sviluppare delle abilità che il mercato è disposto a pagare che sia un datore di lavoro perché vogliamo lavorare a dipendenti che sia invece un lavoro da privato quindi che vai direttamente verso clienti o verso altri business su quello devi lavorare su quello devi concentrarti cioè devi migliorare tu se vuoi guadagnare devi acquisire delle abilità che ti permettano di farlo quello che guadagni una parte la va a investire cioè tu credi che stefano sia ricco perché investe tanto mi è arrivato anche dagli investimenti ma anche non solo non è solo lì ho delle attività io lavoro e creo tramite le mie attività tramite quello che faccio mi arrivano i soldi e li vado ad investire quella è gestione finanziaria tu vedi magari dei risultati qua su instagram magari o qua su youtube che mostro perché comunque quando parliamo si vedono vedi quei risultati di ciò che figo posso farlo anch'io ma tu non sai quanto imballo io per fare determinati risultati non sai quanto cash c'ho in gioco ne lo dirò mai perché non voglio fare il guru in lamborghini o cose strane voglio essere molto pacato tranquillo e dire quello che è non si può andare ad emulare altre persone non lo si può fare anche se siano portafogli piccoli o grandi o enormi non cambia ognuno ha delle proprie strategie ognuno ha sviluppato nel percorso determinate cose sì si possono avere le informazioni questo assolutamente sì ma non si può realmente credere di poter sbancare di poter fare il botto e cambiare la propria vita tramite gli investimenti a me l'investimento è andato tantissimo continuano a dare tantissimo ma perché a monte c'è un lavoro sodo su me stesso sulla creazione di valore per il mercato sull'acquisizione mia di abilità che posso portare sul mercato quelle entrate lì poi devo essere in grado di gestirle ma non devo partire con lavoro diretto sugli investimenti e faccio cioè a meno che tu non voglia guadagnare dagli investimenti andandoti a far assumere da una società da un broker o da quello che vuoi allora lì un altro paio di maniche ma da retail da persona comune non devi focalizzarti su quello devi focalizzarti su aumentare le tue entrate in ogni modo ragazzi c'è veramente ci sono un sacco di cose impara a fare i video impara a programmare impara a fare intelligenza artificiale a utilizzarla impara o sei già un'attività fai video corsi su quell'attività lì perché tanto ci saranno altre persone che devono impararla cioè questo è cerca di scervellarti per monetizzare quelle che sono già le tue abilità o eventualmente sviluppare nuove abilità una volta che tu avrai fatto questo molto probabilmente inizierai ad avere che cosa indietro più valore e man mano che tu hai più valore in termini economici allora puoi andare a gestire quel valore lì se tu guadagni 1000 euro al mese non puoi mettere 1000 euro al mese negli investimenti perché non mangi e perché il tuo mangiare dipenderà da quei soldi lì dipenderà da quegli investimenti e 2000 euro al mese prendi 20 euro prendi 50 euro prendi 100 euro li vai investire e ti muovi piano piano tralasciando piattaforme cose varie intendo proprio sul mercato ti compri btc ti compri quello che ti pare ripeto non sono consigli finanziari quindi sei tu che poi decidi cosa fare perché inizi con poco senza avere la presunzione di fare il botto perché così inizia a prendere dimestichezze inizia a comprendere come il mercato inizia a mettere a rischio un qualcosa un quantitativo di denaro che consono a quello che tu stai guadagnando poi pian piano vai a scalare man mano che aumenti da questo lato quello che ti entra lo vai a direzionare lo fai entrare all'interno degli investimenti e lì inizia a guadagnare cioè ragazzi è questo è questo non puoi prendere parto io faccio qui o spacco lì vado investo butto tutto perderai soldi perderai soldi che sia con gli investimenti che sia col trading che sia con quello che ti pare perderai soldi devi concentrarti ad apprendere darti il tempo di apprendere e contemporaneamente però sviluppare abilità che ti portino dentro più cash guadagni lavorando moltiplichi investendo questa è l'unica strada percorribile che ti senti a mettere e non perdere le cose un'attività che ti senti a mettere a sull'unica strada percorribile che ti senti a mettere un'attività che ti senti a mettere un'attività che ti senti a mettere il